Tutto pronto a tre castagni per la festa di Sant'Alfio, che si concentrerà soprattutto nei giorni 9 e 10 con i fedeli che rinnoveranno la devozione ai Santi nell'anno della misericordia, imitando la fede dei martiri. Oggi intanto, a partire dalle 17, per le vie del paese ci sarà l'uscita delle candelore del santuario, mentre in serata giungerà il gruppo dei fedeli da pedara in pellegrinaggio. Oggi è un'anteprima della giornata interamente dedicata ai cere con il Gran Galà, che si svolgerà domani sera con un finale di giochi pirotecnici. Una kermesse piromusicale per i tre partiti, Tondo, Collegiata e Sant'Alfio.